Alberto Rimedio Alberto Rimedio vediamo domani che succede e ancora possiamo fare qualcosa la prossima settimana e solo voglio parlare della Roma e di questa stazione Con Luis Cerniche tu vorresti che il tecnico restasse sulla panchina della Roma? Io penso con tutti gli altri calciatori noi vogliamo che lui rimani qua e che resta con noi ma dopo io sono solo un giocatore e la decisione è al mister di prendere la società ma i giocatori sono tutti dietro al mister grazie mille ciao